Se stai guardando questo video a mezzanotte fammelo sapere con un commento, voglio vedere quanta gente effettivamente c'è attiva in questo lasso di tempo per capire un pochettino anche la situazione con gli eventi. Se ci siete battete un colpo o quello che volete, suonate una canzone, come preferite, però fatemelo sapere nei commenti, grazie. Amazon Prime Day o precisamente festa delle offerte autunnali di Amazon. Come funziona? È il classico evento dedicato ai clienti Prime, quindi dovrete avere il vostro account attivato per poter usufruire della maggior parte delle offerte, ma una parte rimangono anche libere. Comunque potete fare il vostro account gratuito 30 giorni al link giù in descrizione, ma le cose interessanti sono che, raga, le offerte che mi hanno mandato in anteprima non sono pazzesche, ecco. Non vi voglio mettere un hype esagerato, voglio essere molto onesto con voi, però ne ho comunque selezionato a qualcuno che so che farà piacere ad alcuni, insomma, che magari stanno aspettando per risparmiare qualcosina sulla propria build. Ad ogni modo vi ricordo però due cose importanti. Uno, le offerte che ci mandano in anteprima al 99% o non entrano, comunque non sono le migliori, quelle ve le mettiamo sui canali Telegram perché escono man mano e ve le segnaliamo in tempo reale, facendo attenzione che non siano dei saliscendi, ma soprattutto nei nostri canali Telegram trovate offerte per tutte le tasche, dagli errori di prezzo, all'hardware, alla tecnologia in generale, infine anche le offerte con MTT Casa per quanto riguarda la vostra zona casalinga. Potete migliorare tutto quanto, potete risparmiare tantissimo, farvi scorti tutto quello che volete per la casa, per la cucina, per l'ufficio, qualsiasi cosa, insomma. La trovate sui MTT Casa e poi sugli altri canali, dall'hardware al tech, come dicevo. E oltretutto vi ricordo anche il nostro nuovo arrivato, il configuratore, ragazzi, anche con le offerte del Prime Day. Infatti tutto quello che sono le offerte, qualora un case, guadagni tanti tanti punti grazie al suo nuovo prezzo, effettivamente verrà proposto all'interno delle build. Senza neanche che voi lo sappiate che sia un'offerta, semplicemente lavorerà come al solito, ma utilizzerà i prezzi appunto di questo evento. Quindi se volete farvi una build e avete problemi a configurarla da soli, sappiate che il nostro configuratore è già stato aggiornato con tutti i feedback che ci avete dato al lancio, quindi di per sé il grosso è già stato implementato, tantissimi dei consigli che ci avete dato. Per il resto lavoreremo dopo il Prime Day per le modifiche più importanti. Però moltissime cose sono state limate e messe bene, quindi il configuratore ora è prontissimo per aiutarvi durante il Prime Day a comprare una build con budget dai 600 ai 3000 euro per quanto riguarda il gaming, oppure produttività e ufficio. Ad ogni modo iniziamo a snocciolare un pochettino invece quelle che sono le offerte. Iniziamo un pochettino dalla parte delle componenti. Case, che sappiamo che sono una delle componenti più scontate durante questo tipo di eventi. Da NZXT richiestissimo l'H6 Flow, il case acquario di casa NZXT, oltretutto l'ho recensito proprio su questo canale, quindi potete anche andare a recuperare un pochettino la recensione se siete interessati. Non ha uno sconto diciamo pazzesco, però scende a 99 euro, piuttosto competitivo per la fascia degli acquari, poi sappiamo che ovviamente hanno la NZXT Tax, cosa che incrementa un pochettino i prezzi, però come case è sicuramente interessante ed è una soluzione valida per quanto riguarda l'airflow nel contesto dei PC acquario, con la sua leggera inclinazione di 45-30 gradi sulla zona delle ventole, quindi se vi piace l'estetica è il momento giusto. E il modello Flow non ha gli RGB, però ha un buon flusso d'aria. Sempre in casa NZXT invece vi segnalo l'H7 Flow, in questo caso nella versione 2024, che ha migliorato moltissime delle pack del 2022-2023, andando quindi a creare un case veramente molto molto interessante. Essendo l'H7 costa un po' di più degli H5, però migliora i supporti generali per quanto riguarda tutte le compatibilità con le componenti, quindi se volete farvi anche una build magari un pochettino più avanzata, può essere un modo per risparmiare. Il costo è comunque abbastanza alto, diciamo che anche qui è NZXT Tax, cioè pagate un po' di più perché è il brand, però di per sé se vi piace questo genere di estetica è sicuramente un buon candidato. Lo potete trovare a 119€. Poi, manca dirlo, l'eternamente presente Corsair 4000 D Airflow, un case che ormai abbiamo visto in tutte le salse, colori e modalità, scende a 79€. È un prezzo decisamente interessante per diversi punti di vista, se vi interessa di farvi una build magari con dei supporti di compatibilità un po' più bassi, tipo un 2,40 o un 2,80 mm, oppure semplicemente una build con un dissipatore ad aria. Secondo me, abbinato ad una build di fascia media, rende comunque molto bene, la sua estetica esterna è veramente pregevole e la maggior parte delle soluzioni al suo interno sono concretamente valide. Quindi di per sé 79€ è un prezzo giusto. Ma ammettiamo che siate un po' pazzerelli e vi piacciono i case particolari, c'è uno dei miei preferiti in sconto, oltretutto in questo caso ad un prezzo veramente molto valido. Sto parlando dell'Asus AP201, un micro ATX minimal, senza RGB, non dovete neanche pensare all'estetica, lo trovate in colorazione bianca, veramente molto, molto bello, completamente traforato per il passaggio massimo dell'airflow ed è un case che ha dei supporti pazzeschi per un micro ATX, tipo un 360 mm di radiatore. Ve l'ho recensito su questo canale quando ancora ero nell'altro studio e devo dire che è molto, molto valido, soprattutto perché l'ho trovata a 70,90, ragazzi, perfetta concorrenza della 3 micro ATX di Lian Li che invece abbiamo visto in collaborazione con Dan Case qualche video fa. Onestamente a 70,90€ in Amazon Prime è un prezzo pazzesco. Compratevi la P201, fatevi un favore perché è uno dei migliori case micro ATX, ma uno dei migliori case in generale che possiate comprare, con supporti veramente assurdi per le dimensioni. Ovviamente all'interno di questi case ci dovrete mettere delle componenti, e ve lo dico subito, non ci sono né schede video né processori, almeno non in anticipo. Se poi dovessero uscire, ripeto, canali Telegram, ve li segnaliamo. Però per il momento non abbiamo notizie di questi due campioni, quindi di per sé che volete da me. Però sapete che cosa vi posso dare? Una scheda madre. Così iniziate già a pensare dove potete puntare il dito quando vorrete indicare il processore o la scheda video che volete. Ad ogni modo B650, gaming AX V2, una scheda madre di gigabyte. Entry level 163 euro, 164 euro, insomma con il 99 centesimi, però parliamoci chiaro. È una scheda madre che fa tutto quello che vi serve se state cercando di posizionarvi in un contesto gaming, per esempio un 7600, un 7700, ma anche un 7800 X3D se volete, senza problemi. Hanno consumi molto esigui tra tutti e tre i processori. Nuova generazione, beh per la fascia media nessun problema, comunque il TDP è anche più basso a meno che non sblocchiate il BIOS. Ad ogni modo scheda madre entry level, molto interessante, socket M5, link in descrizione. Salendo leggermente di categoria invece, se voleste una X670 per le migliorie, per quanto riguarda le compatibilità per le memorie e la scheda video, c'è una X670P a 219 euro. Qua ve lo dico, è uno scontino veramente minimo, non è una grandissima offerta, irripetibile, magnifica e pazza. È un'offerta molto comune in questo tipo di eventi, però sicuramente può far piacere a qualcuno, se state cercando magari un'estetica un po' più vicina al bianco argentato, per riuscire a completare la vostra build, o se magari vi piace particolarmente il BIOS di Asus, che effettivamente è una cosa non da dare scontata, il BIOS Wi-Fi di Asus è particolarmente intrigante, quindi X670P che sta per Prime. Ma parliamo invece di SSD, due tagli in particolari, perché in realtà non c'è tantissimo in termini di memoria, tant'è che non ci sono neanche RAM, cioè immagino che usciranno le solite Corsair, le solite Viper e cose così, però per la media che è quella delle DDR5 non sono, diciamo, delle offerte pazzesche, quindi sì, vi potrei dire che magari c'è uno sconto sulle memorie di Corsair, ma stiamo sempre parlando di qualche euro, quindi mi sembra un po' un insulto alla coscienza dirvelo, ad ogni modo sì, c'è qualche memoria in sconto. Più che altro vi segnalo in realtà un SSD che può tornare utile, il P3, in taglio da 4 tera, per chi voglia fare grosso storage su SSD, comunque con una velocità abbastanza importante, di giochi, magari avete una pessima connessione, scaricate e poi non cancellate mai, 4 tera a 218 euro, che praticamente vuol dire poco meno di 55 euro a tera, che onestamente è un prezzo praticamente da hard disk. Può tornare utile in questi tempi in cui ancora l'Italia naviga nel mondo buio della connessione per poter appunto fare uno storage avanzato dei propri titoli preferiti, anche in vista di un Black Ops 6 che dovrebbe pesare con tutti quanti gli add-on un totale di 300 giga e qualcosa. Per chi invece stesse cercando qualcosa di un pochettino più economico, sicuramente bilanciato con un taglio da un tera, faxian, 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 va beh, avete capito, ha l'S500 Pro, che è un SSD entry level, non è uno sconto pazzesco, anche qui stiamo parlando forse di un 10% scarso rispetto al prezzo medio abituale, però è un qualcosina, nel senso risparmia qui risparmia lì, magari un 100 euro te li togli fuori e ti prendi il mouse gratis. Per esempio in offerta, come periferiche, trovate l'ARP Ace Wireless a 91 euro, prezzo veramente molto invitante, considerato che è uno dei migliori mouse in circolazione, specialmente per il tratto più commerciale, insomma se non subentriamo nel dover andare a reperirli nel lontano Tibet facendo delle scampagnate, però di per sé sapete com'è, l'ARP Ace Wireless è uno dei miei mouse preferiti. Lo uso letteralmente, come potete vedere qua, lo uso letteralmente tutti i giorni, lo adoro, da quando me l'ha dato Asus, vi giuro che non l'ho mai mollato, è pieno di sporco e devo pulirlo, ma è il mio mouse, GoTo non lo mollo per niente al mondo, strategici, FPS, qualsiasi tipologia di gioco io giochi, uso questo, leggerissimo, bello, grip fantastico e soprattutto questa finitura opaca meravigliosa, quindi super consigliato, oltretutto minimo storico, 91 euro, li vale tutti fino all'ultimo centesimo. Lato tastiera invece, siccome sapete che sono un amante delle custom, comunque delle tastiere un pochettino più complicate di quelle da gaming, vi segnalo che Apple Maker ha in offerta la collaborazione con Aula F75, ed è una tastiera, secondo me, abbastanza interessante per chi si voglia approcciare al mondo delle custom senza spendere troppo, non è nuovamente uno sconto pazzesco, normalmente la trovate magari sui 90-95 euro e oggi ve la portate a casa a 78. È comunque qualcosa, come dicevo prima, risparma 10 euro qua, risparma 10 euro là, quel cosina gratis te la prendi, come per esempio questa tastiera a 78 euro. Li abbiamo già risparmiati praticamente tra case, scheda madre e appunto il mouse, quindi interessante assolutamente. Se volete farvi il corredo delle periferiche, poi vi lascio anche qualche cuffia giù in descrizione, tanto sappiamo che ci saranno sempre le solite fanatic, le solite hyperxcloud, lo sapete ormai ragazzi, sono sette anni che facciamo questi eventi insieme, sono sempre le stesse offerte per molti brand, e poi qualche punta che invece vi segnaliamo con molto, molto interesse sui nostri canali di Telegram. E siccome dobbiamo completarla un po' sta postazione, passiamo ai monitor. C'è qualcosina in offerta secondo me di interessante. Vi dico che purtroppo sarebbe dovuto andare in sconto un monitor Q di OLED, di cui non dico il nome, però sarebbe dovuto andare in sconto, era veramente molto interessante, purtroppo non andrà in sconto. E sono molto triste perché l'avrei comprato. Ad ogni modo partiamo dalla fascia bassa con Acer Codice Fiscale, mi rifiuto di ripetere il suo nome, che è un monitor 1080p con supporto FreeSync ed è 100Hz. Non è una cosa assurda, ma raga costa 79 euro, secondo me può essere un entry level abbastanza interessante, un ibrido ufficio gaming per chi non abbia troppe ricreste, ma voglia magari quella fluidità extra. Anche solo nello scroll verticale delle pagine, comunque i 100Hz secondo me sono molto, molto validi per migliorare l'esperienza quotidiana, quindi di per sé può essere qualcosa di interessante. Ad ogni modo 79 euro è proprio un entry level, dai diciamocelo. È una ventina di euro in meno, ma ripeto, risparmio qua, risparmio là. Se invece siete dei pro gamer mattissimi, classico Samsung Odyssey G3, ovvero un 1080p 165Hz che è trovata a 129 euro. Onestamente macchina da guerra per chi stia approcciando il mondo dei videogiochi in questo momento, magari per giocare al vostro Fortnite con una scheda come, non lo so, una 4060, 4060T, o con rispettivi prestazionali, 1080p te la godi di brutto. Comunque in ogni caso con la fascia bassa riuscite ad abbinare parecchie schede video ad un monitor che alla fine costa 129 euro. Ha un po' tutte le caratteristiche necessarie per la maggior parte dei giocatori, FreeSync e tutto quello che vi possa servire. Ad ogni modo, non un campione eccezionale, ma sicuramente interessante per approcciare questo mondo. Infine, per chiudere, AOC con un altro codice fiscale. Abbiamo di fronte un 1080p 240Hz, per la massima esperienza in questa risoluzione, anche perché sopra, insomma, il 360 lo trovo un po' esagerato, ma 179 euro, diciamocelo chiaro, è un prezzo veramente molto interessante. Se siete, per esempio, persone che pensano di approcciare il competitivo in maniera un pochettino più seria, sicuramente è quello che fa per voi. Dovreste valutarlo. Non è uno sconto anche qui pazzesco, ripeto, però è sempre qualcosina per risparmiare o sfruttare l'evento, per esempio fare un acquisto che puntavate da un po' di tempo. Ma saliamo un pochettino con le risoluzioni. 1440p, devo essere onesto, le offerte sono ok, ma niente di fuori di testa, niente da strapparsi i capelli, almeno per queste offerte che ci hanno passato. G321Q di MSI. 269 euro, uno sconto che in realtà non è troppo eccessivo, perché già in questi giorni era sceso a 289, semplicemente prende uno scontino ulteriore di una ventina di euro, però alla fine è un Quad HD con 32 pollici di grandezza, se vi piacciono i monitor grandi, 175 Hz. Può essere assolutamente quello che potreste valutare per approcciare questa risoluzione in maniera decisamente interessante. Comunque 269 è un prezzo piuttosto competitivo. Ma secondo me la vera bomba qui c'è la LG con un monitor 4K, 144 Hz, IPS, G-Sync compatible, tutte le carte in regola per essere interessanti, dimensione di 27 pollici, che secondo me è l'unico malus, ma dipende da persona a persona, perché c'è a chi piace effettivamente il 4K in 27 pollici, 399 euro. Io lo dico, secondo me questa qui sarà l'offerta che farà vendere di più a LG nella fascia alta, perché oggettivamente 399 euro è un prezzo molto valido. E la loro qualità dei pannelli alla fine è la stessa di tutti gli altri, perché producono per l'80% del mercato dove non arriva Samsung, quindi davvero siamo di fronte a un monitor che potreste aver visto in altre 40 salse a coperture, che però semplicemente LG vende a meno, perché è il produttore diretto e ha dei costi inferiori. Più interessante. Non ve la spaccio come un'offertona, perché, allora, è un prezzo veramente interessante, ma è esattamente lo stesso del precedente Prime Day, quindi di per sé è interessante più che altro per chi si sia perso magari in quel periodo indugiando un pochettino l'offerta, ma alla fine può essere validissimo come richiamo perché appunto voglia approcciare questa risoluzione in gran stile. Alla fine il 4K a 144 Hz solo due anni fa costava più di 1000 euro, quindi di per sé molto molto bene. Adesso queste fasce appunto introduttive sono molto molto valide. Per il resto, ragazzi, diciamo che queste sono le offerte di cui sono a conoscenza in questo momento. Qualora ne uscissero di più interessanti, domani vi propongo magari una bella build o qualcosa del genere con cui appunto spendere i vostri soldi, se no potete giocare un pochettino con il nostro configuratore, stabilire il vostro budget, ognuno avrà le proprie necessità e noi siamo pronti a soddisfarle tutte quante. Ricordatevi anche di lasciarci i feedback sia nei commenti di questo video che nelle altre modalità come direttamente sul sito, insomma, ci aiutano tanto a migliorarlo. Lasciate anche un like. Grazie!